bene buonasera a tutti eh per Carlo Cottarelli buongiorno perché a Washington eh eccoci qui per la nostra puntata di Economia in Quark con Gianpaolo Galli buonasera perché siamo a Roma allora eh questa settimana ci sono varie novità e vari temi da discutere alcuni sono un po' ricorrenti dobbiamo dire la verità eh però emergono fuori in forme sempre nuove ad esempio eh il MES ormai siamo tutti abituati a pensare al MES nei termini del MES sanitario i famosi 36 miliardi che eh i grillini non vogliono i democratici vogliono eh lo stallo si fa non si fa ci siamo un po' dimenticati che in realtà la partita più grossa è la riforma del MES il meccanismo europeo di stabilità che è stata votata un anno fa e che si è bloccata un po' per il vetro del governo italiano pare apparire scusate la letterazione una sorta di compromesso e cioè il governo italiano toglierà il veto alla riforma del meccanismo europeo di stabilità però non si prenderà i soldi del MES sanitario allora volevo chiedere a Gianpaolo intanto ricordare in breve qual è la riforma e così via perché non è che tutti se lo ricordano e poi il suo commento su questa eh sorta di salomonica ma in realtà tartufesca la posizione dunque beh questa posizione è strampalata però diciamo la politica ci ha insegnato che le cose strampalate a volte sono quelle che hanno più successo ehm hai fatto bene a fare la distinzione c'è il MES sanitario di cui abbiamo discusso in questi mesi io non credo che ci siano da spendere altre parole questo è diventato l'ultimo dei totem forse dei cinque stelle uno degli ultimi totem rimaschi dei cinque stelle eh che devo dire diciamo eh non c'è nessun motivo al mondo per cui l'Italia non avrebbe dovuto utilizzare il MES sanitario e però non l'ha utilizzato queste sono le particolarità diciamo della politica che noi economisti facciamo un pochettino fatica a capire però insomma poi c'è l'altra questione che stava sul tavolo prima dell'epidemia molto prima a dire la verità perché ehm avrebbe dovuto essere approvata nel Consiglio europeo del dicembre del duemiladiciannove essendo l'iter di riforma partito nel duemiladiciotto ed avendo avuto un ok di massima già dai capi di Stato nel giugno luglio del duemiladiciannove ed avendo anche un ok da parte del delle cofin cioè dei ministri delle finanze. In cosa consiste questa è quella riforma quella diciamo eh in quella riforma ci sono delle cose molto importanti e molto positive c'è il backstop per le crisi bancarie quindi ehm un meccanismo per cui diciamo gli stati quando ci sono delle crisi che possono essere diciamo molto rilevanti e sistemi che mettono dei soldi per eh eh sostenere le banche per evitare che le crisi bancarie abbiano effetti eh diciamo non sostenibili dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale eh quindi questo è un aspetto importante dal sulla sulla questione dei eh prestiti agli stati c'era un aspetto di novità eh in particolare che consisteva nell'introduzione delle cosiddette clausole di azione collettiva collective action clauses ehm una modifica di queste clausole che già esistono sui titoli di stato volte a far sì che con un solo voto si potesse dei creditori dei detentori dei titoli si potesse ristrutturare l'intero debito pubblico attualmente con le attuali clausole di clausole di azione collettiva eh i creditori votano ogni serie di BTP o di titoli che viene emesse quindi diciamo la ristrutturazione di un debito pubblico quando malauguratamente fosse necessaria diventa in qualche modo più più facile da fare allora io devo dire che l'anno scorso quindi più o meno a novembre del duemiladiciannove espressi eh perplessità su questa come moltissimi altri economisti italiani e come il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco allora l'Italia veniva vista come un paese molto speciale con un debito pubblico del tutto fuori linea rispetto agli altri eh e quindi quella eh anche politicamente diciamo quella proposta di riforma suonava un pochettino come un campanello d'allarme per l'Italia creiamo uno uno schema che ci consenta di gestire il rischio Italia adesso direi che la situazione è radicalmente cambiata innanzitutto dal punto di vista strettamente politico cioè se noi adesso blocchiamo la riforma eh rischiamo di avere maggiori difficoltà nel del del sbloccare la questione del next generation EU o del recovery fund ma in secondo luogo diciamo più dal punto di vista sostanziale molti paesi europei adesso si troveranno con un debito pubblico all'italiana oltre il cento per cento del PIL al cento trenta cento per cento del PIL e l'Europa nel suo complesso si è fatta carico del problema in un certo senso dei debiti pubblici a fronte della pandemia con la scelta di indebitarsi per 750 miliardi di euro sui mercati finanziari quindi diciamo il quadro economico e politico che si che abbiamo adesso è completamente diverso è radicalmente diverso da un anno fa quindi io direi che sarebbe un problema abbastanza serio se l'Italia si isolasse e nuovamente eh sulla questione del mess mantenendo il no eh ricordiamo che diciamo eh il è stato il no del nostro presidente del consiglio che ha bloccato la riforma un anno fa e che quindi fa sì che adesso i capi di Stato e ricordo anche che a questa riforma ci tenevano moltissimo diciamo è stata promossa da Macron e da Merkel ehm quindi direi che eh avanti tutta bisogna andare avanti eh e mettere da parte qualche perplessità che esiste che pure c'erano diciamo bene bene eh poi appunto su quello sanitario eh ormai una causa forse persa Carlo eh in questi questa settimana è una settimana punteggiata da anche scioperi per esempio del trasporto pubblico o dichiarazioni minacce di scioperi dei dipendenti della pubblica amministrazione è emersa un po' di insofferenza del resto d'Italia nei confronti dei sindacati della pubblica amministrazione dei dipendenti della pubblica amministrazione che vengono visti come dei garantiti che non rischiano il posto di lavoro che non hanno nemmeno avuto la cassa integrazione eh che invece i dipendenti privati eh hanno patito lasciamo perdere gli autonomi precari che quelli o quelli o quelli a contratto a tempo determinato e in una situazione così grave come questa si mettono anche a far scioperi allora eh qui naturalmente deve sempre essere un po' equanimi quindi cosa ne pensi? C'è un problema pubblica amministrazione eh troppo garantita e che poi ha anche un come dire una conseguenza negativa poi sulla sua efficienza perché se sei troppo garantito qualsiasi cosa fai non ti succede niente eh poi magari si capisce come mai sei anche poco efficiente tu che hai studiato molto il problema della pubblica amministrazione allora io però prima faccio una piccola premessa per fare un po' di pubblicità un'iniziativa che verrà fatta partire lunedì e che riguarda la lettura di libri ci sono ci saranno speriamo speriamo che lo facciano tutti trentacinque personaggi noti che metteranno in rete un loro filmato di trenta secondi per promuovere la lettura di libri l'iniziativa si chiama attenzione la lettura da indipendenza credo che sia vero eh e spero che porti alla lettura di libri noi siamo molto indietro in Europa rispetto agli altri paesi nella nella vendita e nella lettura di libri e credo sia invece molto importante cercare di fare un passo indietro da questa ossessione che abbiamo per le comunicazioni rapide che peraltro utilizzo anch'io perché anch'io sono sui social però leggiamo anche leggiamo anche libri scusate questa parentesi sulla sulla domanda eh che mi hai fatto eh allora bisogna eh distinguere due aspetti il primo riguarda il momento di fare queste richieste di aumenti salariali poi l'altro riguarda la sostanza il momento ovviamente è abbastanza eh strano perché insomma l'Italia sta in crisi abbiamo il settore privato che è in cassa integrazione gran parte quindi i collaboratori che hanno subito di fatto un taglio del loro salario eh alcuni di alcuni eh molti lavoratori del settore pubblici lavoratori del settore pubblico si impegnano tantissimo ovviamente c'è la sanità in parte c'è la pubblica istruzione però ci sono tutti diciamo tutta l'area cosiddetta dei ministeriali che sta a casa non si sa e non soltanto i ministeriali sono tanti uffici locali dei ministeri pensiamo i catasti che sono di fatto chiusi eh con con procedure che sono molto lente con un eh problemi per per utenza quindi in termini eh in termini di timing di opportunità del momento che è stato scelto per fare uno sciopero sembra piuttosto strano sulla sostanza eh ricordiamo una cosa lo sciopero perché eh si ritengono insufficienti gli stanziamenti fatti eh che sono eh nel precedente forse anche in questa legge di bilancio per gli aumenti salariali ehm e che comunque avrebbero comportato degli aumenti non indifferenti in una situazione in cui l'inflazione è è zero perché l'inflazione è zero tutti gli aumenti nominali sono aumenti eh reali cui dovrebbero corrispondere aumenti di produttività che però eh non non si sa bene come se ci sono stati se verrebbero eh come verrebbero misurati eh poi c'è un altro aspetto eh che bisogna eh considerare alcuni sindacalisti hanno detto sì è vero però questo serve soltanto a riportare eh il il stipendi stipendi pubblici rispetto a quelli privati a un livello più adeguato perché sono stati erosi dal blocco dei salari è cominciato nel duemiladieci e è finito nel duemiladiciassette e duemiladiciato. ma attenzione perché questo discesa è stata effettivamente una discesa dei salari pubblici bloccati rispetto ai salari privati tra il duemiladici e il duemiladiciotto più o meno ma attenzione duemiladiciassette ma attenzione il duemiladici era un livello il rapporto tra gli stipendi pubblici e quelli privati era un livello massimo dei precedenti trent'anni. questo perché negli anni duemila c'erano stati aumenti molto forti degli aumenti degli stipendi pubblici rispetto a quelli privati. Se si guarda dove siamo adesso rispetto al passato, credo adesso faremo uscire presto una nota dell'osservatore sui conti pubblici su questo argomento, ma non sembra che il livello attuale dei salari pubblici sia particolarmente fuori linea rispetto a quello del settore privato. Non mi sembra proprio che ci sia la necessità di andare in piazza, soprattutto in questo momento, ma anche in generale per chiedere aumenti salariali superiori a quelli appunto già previsti. Poi naturalmente bisogna invece distinguere tra gli stipendi del settore sanitario, soprattutto un'altra cosa per esempio, ma aumenti generalizzati non sembrano giustificati, ma generalizzati rispetto a quelli che già comunque ci sarebbero. Bene, grazie. Questo è un po' credo il sentimento comune. L'Adams Meet Society contribuisce perché sulla pagina Facebook trovate ogni settimana la libreria di Adam, che è un commento veloce al libro della settimana che scegliamo e quindi potete in pillole due minuti vi facciamo il riassunto di un libro che ci piace. Quindi, grazie a tutti quanti, grazie Giampaolo, grazie Carlo e ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci. Arrivederci.